Ciao a tutti! Oggi prepareremo insieme una cheesecake al melone, davvero perfetta per il periodo estivo. Per la base ci serviranno 200 g di biscotti secchi e 100 g di burro sciolto. Per la crema ci serviranno 250 g di melone a pezzi, 300 g di panna montata, 120 g di zucchero a velo, 250 g di ricotta, 250 g di mascarpone e 12 g di gelatina in fogli. Per la glassa invece ci serviranno circa 300 g di melone, 80 g di zucchero e 4 g di gelatina in fogli. Iniziamo partendo dalla base. Mettiamo tutti i biscotti in un sacchetto. Adesso, o a mano, con un mattarello come preferite, iniziamo a schiacciarli. Una volta sbricciolate per bene i biscotti, li rivestiamo nella ciotola. Se vediamo che ci sono ancora dei pezzi troppo grandi, li rivestiamo nella busta e li ripassiamo. Adesso aggiungiamo il burro fuso. E mescoliamo bene. Una volta che abbiamo mescolato il composto per bene, lo versiamo nel nostro stampo. Io ne userò uno da 24 cm. Adesso con un bicchiere spianiamo. Una volta compressa per bene, la mettiamo in freezer per circa un'oretta. Poi procediamo con il ripieno. Come prima cosa mettiamo la gelatina a bagno in acqua fredda. Poi procediamo tritando il nostro melone. Una volta ottenuto il nostro composto di melone, possiamo procedere. In una ciotola versiamo la ricotta e il mascarpone. e iniziamo a sbattere con una frusta elettrica. Aggiungiamo anche lo zucchero a velo e continuiamo a sbattere. Adesso aggiungiamo anche la panna montata e continuiamo a frullare. Infine, aggiungiamo anche il melone. E mescoliamo. Ecco qui il risultato. A me piace con i pezzetti di melone. Se voi preferite una cosa più omogenea, basterà frittare il melone un po' di più. Adesso strizziamo la gelatina e la mettiamo in un pentolino con due cucchiai d'acqua. E adesso poniamo sul fuoco finché non si sarà sciolta completamente. Quando la gelatina si sarà sciolta la potremo aggiungere al composto. Mescoliamo bene ed ecco qui il risultato. Adesso riprendiamo la base dei biscotti e ci verseremo sopra il nostro composto. Ecco qui. Li verriamo leggermente e mettiamo in frigo per almeno 6 ore. Come ultima cosa prepariamo la gelassa. Iniziamo mettendo i due fogli di gelatina nell'acqua fredda. Adesso in un tritiatutto e in un mixer mettiamo 300 g di melone. facciamo andare finché il melone non sarà completamente tritato. Ecco qui. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Versiamo il melone tritato in una pentolina. Aggiungiamo anche il zucchero e facciamo cuocere per circa 5 minuti. Spechiamo il fuoco e aggiungiamo la gelatina ben strizzata. mescoliamo. A me piace avere una consistenza più liscia quindi con un mini primer andrò a frullare nuovamente il composto. ecco qui. Adesso lasciamo raffreddare per qualche minuto e dopo lo andremo a versare sulla nostra torta. Raffreddando più rapidamente io lo passerò in una ciotola facendo passare il composto tramite un colino. Quando la nostra glassa si sarà leggermente raffreddata la possiamo versare sulla torta. Io utilizzerò un cucchiaio per essere più delicata. Una volta versata tutta la glassa ecco qui il risultato. adesso andrà messa in frigo per almeno tre ore. ecco qui il risultato. la cheesecake è un dolce davvero fresco perfetto per l'estate. Inoltre potrete utilizzare questa ricetta utilizzando qualsiasi tipo di frutta voi preferiate per esempio le fragole oppure delle pesche. L'unica cosa a cui fare attenzione è la panna infatti se siete d'estate e fa molto caldo rischiate che questa impazzisca. vi consiglio quindi di lasciarla in frigo per diverse ore e poco prima di utilizzarla di metterla in freezer per qualche minuto. Vi vorremmo chiedere un favore abbiamo visto che il 95% di voi guarda il nostro video senza iscriversi al canale. Per poter andare avanti abbiamo bisogno della vostra iscrizione a voi non costa nulla mentre a noi cambia molto. Quindi cosa aspettate iscrivetevi al nostro canale